Musica Un cordiale saluto, ben trovati da Tu per Tu, la trasmissione di Trentino TV in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con il consigliere provinciale della Lega, David Moranduzzo, arrivato nei nostri studi. Grazie, è sempre un piacere essere qua con voi. Siamo alla vigilia della partenza della stagione invernale, alcune zone turistiche sono già partite, citiamo ad esempio il Tonale, piuttosto che Madonna di Campiglio, le altre seguiranno. È dunque un segnale importante, pur con le limitazioni e pur sapendo che mancheranno in parte i turisti stranieri. Però è un bel segnale di ripartenza, consigliere Moranduzzo. Assolutamente sì, è importantissimo che la stagione invernale possa finalmente partire, anche perché dietro ad una stagione invernale ci sono sì le piste scistiche, ma c'è tutto il comparto turistico ed economico della nostra provincia. Dietro all'apertura ci saranno anche delle aperture di tutte quelle attività commerciali e non solo, anche alberghiere, di tutto il territorio. Per cui basta pensare ad un'apertura per dare vita al Trentino e dare vita alle nostre aziende del territorio. Certamente poi sappiamo che sono collegati anche all'apertura della stagione invernale tanti posti di lavoro e questo è molto importante. Veniamo a questioni che la interessano più da vicino, nel senso che si è occupato di recente proprio in consiglio provinciale. Lei, parlando di trasporto pubblico, ha presentato un'interrogazione al Presidente della provincia per capire quanti utenti over 70 hanno usufruito del trasporto pubblico gratuito come previsto appunto da una delibera della giunta provinciale. È stata una delibera molto importante perché dava una mano a tutte quelle persone over 70 del nostro territorio per cui c'era la possibilità e c'è tuttora la possibilità e ci sarà tuttora anche dopo per cui anche nel 2022 e nel 2023 la possibilità per tutti gli anziani over 70 di girare sui mezzi di trasporto pubblico in Trentino gratuitamente. Si parla di una popolazione che è all'incirca il 18% della popolazione totale del nostro territorio e solo nel 2020 sono stati dati 33 mila abbonamenti gratuiti ai nostri anziani per cui abbiamo dato la possibilità ai nostri anziani di non avere speso ulteriori in un momento di difficoltà economica. Altro argomento per il quale lei ha presentato un ordine del giorno è in particolare la celebrazione di matrimoni nei Castelli e Trentini a riguardo proprio lei ha presentato come dicevo un ordine del giorno. L'ordine del giorno è stato presentato a luglio durante l'assestamento di bilancio è stato un ordine del giorno molto particolare perché parliamo di dare la possibilità alle coppie che hanno intenzione di sposarsi e soprattutto anche agli organizzatori di matrimonio di poter celebrare i matrimoni all'interno dei Castelli Trentini. La nostra provincia ha tantissimi castelli, mi viene in mente il Castello del Buon Consiglio per cui quello che succederà sarà che la provincia darà la possibilità di celebrare i matrimoni, di creare delle case comunali all'interno dei castelli e dei manieri e così oltre che avere la possibilità di sposarsi all'interno dei palazzi comunali, un esempio posso farlo sulla città di Trento, all'interno dei palazzi di via Belenzani ci sarà anche la possibilità di sposarsi all'interno dei castelli. Una risposta ovviamente positiva da parte dell'assessore Bisesti che ha accolto il mio ordine del giorno molto molto bene e soprattutto è una cosa molto importante da dire è quella che sono già stato contattato da diverse agenzie di organizzazioni di matrimoni chiedendomi quando si riuscirà a farlo. Da parte dell'aggiunta provinciale c'è il massimo impegno di velocizzare i tempi e di cercare di dare subito questa possibilità a queste future coppie di sposi e a queste agenzie di organizzazioni dei matrimoni. Ecco sappiamo anche che i matrimoni insomma si sono fermati diciamo così nel corso dell'emergenza sanitaria ma adesso insomma piano piano naturalmente con tutte le precauzioni del caso sono riprese e dunque questa è un'ulteriore possibilità per poter creare delle belle location e naturalmente i castelli del Trentino sicuramente sono uno sfondo davvero importante e bello sicuramente. Parliamo poi di un altro argomento poi ci dobbiamo avviare alla conclusione ovvero del lago di Canzolino anche riguardo a quest'altra splendida location del nostro territorio lei ha presentato proprio un ordine del giorno. Dobbiamo dire che tutti i laghi del Trentino sono bellissimi il lago di Canzolino c'ha però un problema dove c'è la sponda del lago non tutta la sponda è messa in sicurezza nel 1984 in seguito poi nel 2004 e infine nel 2019 purtroppo ci sono stati dei problemi ci sono stati degli allegamenti dove queste persone ovviamente nell'ultimo caso una coppia di signori anziani marito e moglie hanno messo la retro invece che mettere la prima e sono finiti giù nel tratto dove mancava il guerra rail per cui mettere in sicurezza un lago per far sentire più sicura anche la popolazione che va lì a passare magari una giornata in compagnia e ovviamente credo che sia stata una mozione un ordine del giorno molto importante per tutta la comunità e soprattutto per chi frequenta quel lago. E su questo ordine del giorno sulla messa in sicurezza di una delle sponde del lago di Canzolino noi concludiamo con questa puntata di A2x2 con il consigliere provinciale della Lega David Moranduzzo grazie di essere stato con noi, grazie a voi di averci seguito. Grazie per la vostra ospitalità. Arrivederci. Grazie per la vostra ospitalità.